alzatevi durante la cena ditelo che avete un dolore che non passa guardate negli occhi i parenti provate a fare una federazione di ferite ora che siete in compagnia ditela la vostra solitudine sicuramente la stessa degli altri se scoppiate a piangere è ancora meglio scandalizzatevi i vostri parenti piantate la bandiera dell'inquietudine in mezzo al salotto fatevi coraggio prendete un libro leggete qualche verso parlate dei morti parlare di voi e poi ascoltate sparecchiate togliete di mezzo il cibo mettete a tavola la vostra vita siamo qui con il sesto ospite della rassegna culturale non a voce sola franco arminio che ha portato questa sera il suo ultimo libro di poesie la cura dello sguardo il ruge di questa rassegna di questa edizione è la rinascita cosa significa per lei e cosa dentro questo libro rappresenta effettivamente la rinascita io penso che spero che ci sia effettivamente una rinascita perché un po siamo morti col copite siamo morti di paura siamo è morta una parte dell'economia e quindi che ci sia una rinascita piuttosto che un ritorno semplice alla normalità rinascita significa anche un nuovo modo di stare al mondo quando si rinasce si nasce con un'altra voce con un altro corpo con altri sogni quindi ovviamente auspico che gli italiani che gli occidentali veramente si si metta in testa che la normalità non ci può bastare che la normalità è pericolosa siamo arrivati a una nuova normalità dunque dobbiamo ricreare una nuova normalità la normalità è un po una sorta di così di una cosa arrangiata è una mancanza di immaginazione la normalità è quello che facciamo quando non abbiamo sogni quando non ci raccontiamo di quello che passa il convento io penso che l'umanità deve essere più ambiziosa deve fare una nuova alleanza con gli animali con le piante e soprattutto deve avere un percorso che guardi alla salvezza del pianeta continuando così il pianeta finisce lei ha inventato una nuova disciplina la paesologia questo significa andare nei paesi attraversarli penetrarli come ci ha detto anche oggi praticamente qual è lo scopo della paesologia c'è uno scopo effettivamente lo scopo è quello di dire intanto gli italiani che i paesi esistono che molti se lo scordano e che i paesi hanno un futuro non è vero che i paesi sono destinati a morire e io mi batto perché ci siamo una sorta di nuovo umanesimo delle montagne che parta proprio dai paesi e quindi anche dalle marche siamo qui con il vice sindaco di monte cosaro che ha ospitato questo sesto appuntamento con franco arminio come le è sembrata questa riapertura della della vita culturale diciamo dopo i mesi di lockdown è stata davvero una serata magnifica innanzitutto vedere il teatro così pieno un peccato non averlo potuto fare fuori forse potevamo stare più larghi però così c'è stata davvero un'atmosfera bellissima splendida poi il signor arminio è stato davvero fantastico innanzitutto perché ci ha portato dei concetti bellissimi e profondi ma presentati forse con più leggerezza e più forse un po di allegria vogliamo dire così in un momento come questo dove tutti abbiamo bisogno un po di alleggerire il momento questa ripresa questo modo di fare questa serata è stata per me fantastica bellissima emozionante e soprattutto ci faceva sentire insieme in questo momento credo che sia importante poi lui che si definisce un paesologo noi che siamo montecosaro davvero un paese ci piace essere un paese ci teniamo essere un paese quindi sicuramente attinente con noi e ci ha fatto molto molto piacere abbiamo ricominciato benissimo speriamo di proseguire franco arminio ha fatto quest'ultimo libro titolato la cura dello sguardo nuova farmacia poetica ad indicare come la poesia sia terapia allenimento consolazione condivisione delle ferite comuni la poesia dipende molto dalla propria interpretazione personale e penso che come ogni libro nel momento in cui il l'autore lo licenzia non è più il suo libro ma il libro è di chi lo legge vi aspettiamo come sempre numerosi attenti e partecipi al prossimo appuntamento che sarà giovedì 13 agosto alle ore 21 e 15 a Porto Recanati Arena Gigli con Loredana Lipperini e Lucia Tancredi non mancate grazie